E vedi, lo muovi di su che non ho più voglia di fare il tuo microfono! Mmm... Caricamento... Grand Theft Auto Online! Quindi va? Non lo so! Sì! Poi sì? Sì! Io sono dentro il bunker! Forse perché lo devo avviare in modo diverso? Non lo so! Ah, ma non avevo i... non me hanno... C'è stato un momento in cui ho perso internet, quindi va caricato GTA senza internet! Un cuocione totale! Oh, mamma mia, se no, vai! Ogni volta che direi la te... Cioè, io sarò qui! Vai! La mar di me... La marda! La me... La mar la me... Andiamo al bunker! Se continui, credo che ti kill! Se continui a fixarti il microfono, magari ti sento bene! Adesso va meglio! Oh! Sembri un extraterrestre che ha fixato tutto! E che droga ti fai, giusto per sapere! Sono scemo, signori, aspettate un secondo! Ma non è intelligente! Perché c'è scritto Grand Theft Auto V su PC? Cioè, perché c'è scritto Grand Theft Auto V su PC? E il social club esiste solo per GTA V su PC? E ora si sente anche GTA! Non so se si sentiva prima, però... In caso... Ora per forza! Perché l'hai attaccato al... Al cambio? Sì, ho... Ho attaccato... Il router a GTA V... Wow! Eh? È bravo! Sì, ma lo sapete che il Doc c'è il VR? È una rubata... C'è il VRUM! Che cosa restava? Quando metto il VR faccio VRUM! Che faccio? Io vado a sbattere contro la gente! L'ho fatto a sbatt... No! è normale andare a 160 mili orari in una città con un pendi auto no tutto normale ragazzi ti immagini che c'è con i limiti di velocità sarebbe figo no non puoi andare veloce si chiama grande furto di auto e se io faccio un furto di auto grande furto di auto limitato ragazzi soltanto da domani al cinema grande furto di auto illimitate solo da domani grande furto di auto a soli 99 euro e 50 centesimi in edizione limitata quindi non potete superare del miglio orario le 10 eh io faccio i chilometri quindi vado più veloce sono più veloce la mia puoi cambiare sessione perché la tua non va di sessione è bella brutta no va bene vado in una pubblica vuoi giocare a gt online? vai dai cambia sessione che la tua mi sa in quanti sei nella tua sessione? perfetto ho ammazzato uno in tipo 2-3 per me c'è un modder perché non mi fa piacere la sessione gt online ci posso andare nella tua no ti invito nella missione diretta allora così entri per forza ah godetti di svizzera non so che sandra lo so non lo so nemmeno io c'è che ti devo dire più che vendere patate se vado sessione sola a degli amici chiusa quindi è una sessione stata dal pc dai un po' si degli amici chiusa va senti per favore puoi gioinare da me no perché poi non me la fa fare la missione va fatta in pubblica ma come va fatta in pubblica però se trovo una sessione che mi va te ti unisci eh fermo non unirti a niente vabbè aspetto qua accetta la missione ti è arrivata? si boh mi sono be... magari ci sa che ne sono beccato un paio di sessioni rotte ora sta funzionando? si e io sono entrato eh ma sai che cos'è? quando io vado in pubblica spesso e volentieri compiti sto giubbotto che poi mi fai due balle così oh bravo andiamo allora secondo me è questo quando io vado in pubblica a random se ci sei te online mi fa entrare nella tua sessione il gioco continuava a farmi entrare nella tua sessione che magari è rotto o bugato c'è un modder che ha bloccato ha bloccato tutto dobbiamo vederci tutto lo cinamotico di nuovo questo è sempre quello che è molto bene possiamo andare avanti dove dobbiamo andare? il dopo è scarso il dono il livello 69 si chiama Vincent Van Gogh segui Van Gogh muoviti che dopo se si taglia l'orecchio mi sono bagnata e ci tocca fare la rissa cos'è schiavare? schiavare se neanche leggere vabbè vaffanculo io l'ho fatti fuori tre e te uno andiamo sta rubando l'auto eh però mi dispiace capito eh sono i parcheggiatori ecco questa missione non ero riuscito a finire mi pare guarda guarda si vabbè eh dimmi che era un solo pro guarda me e a te sei brutto stacuccio drag di me eh già raggiunto l'auto oh shit potrezzi anche danni e mi sparano sai e a me sparano tanto però io non mi fermo davanti ai pericoli vai presa l'auto aia scusa la casa me lo stai facendo muoviti a salire aspetta ok ho rotto lo sportello vai ah si credo di aver buttato due ruote per sbaglio almeno non dai ma cosa è vuoi sparare il gentilmente no perché se no mi ammazzano devo usare gli snake dai spara che inutile che sei grazie ho capito spara vuoi che guido io non mi pare che tu ci riesca sai ho due ruote bucate slitta come non so cosa frena già aspetta guarda l'auto è così non gira che po' che c***o di auto è e no è che con le ruote bucate è ma una merda si effettivamente vorrei dire truffata è proprio una truffa sta roba quanto mi tocca pagarla ah ricorda piccolo zero buono oh io vado bene lento con c***o vai i vetri si possono rompere dammo muoviti signora vado avanti oh che bello che bella missione bravo sai guidare ha imparato a fare una cosa ce l'ha fatta senza richiedere shark ads in cambio trova nuova sessione si poi il caricamento della sessione dura al massimo 20-30 secondi cioè velocissimo sì forse non è così veloce l'hai gustata adesso ci sta venendo puoi funzionare ecco ha caricato vedi molto più veloce di più io mi devo ricomprare l'app domani sono in una sessione da due ma letteralmente neanche 30.000 dollari ok si è caricato sì io devo comprare un oggetto ho visto che secondo me o p si si un secondo che ho paura che se poi dopo si bug intanto almeno l'oggetto l'ho comprato no dovevo comprare anche il moschetto è un visore termico e funziona seriamente dove si compro e da munition ma io non l'ho mai trovato il visore termico è perché non sai cercare e non funziona questo sarebbe funzionare ma sono finite le missioni di cosa qua e lo sai che in realtà forse no no esiste esiste ecco vedi che mi torno ah posso andare dentro qualsiasi cosa io prendo un posso andare nell'area nell'area management non lo sapevo prendo un per 4 nero e un per 2 militare così e dove arrivo di chi ah questo qui ha la visione notturna come lo disattivo io sto qua con Agatha che lei che si ubriaca ma non posso andare perché è più 50.000 dollari non me li avrai e vatti quel modder e vabbè se sono 50.000 stai attento però sì ma non mi sta dando altre missioni della signorina Baker facciamo una missione della base operativa e poi andiamo a fare una missione della signorina Baker dai no e signorina Baker mi sa che oggi la idea perché posso unirmi non funziona è solo ad inviti o per gli amici no allora possiamo fare un po' di base operativa per favore se no io non sto aspettando che ti unisci per fare la base operativa devo andare in una sola di inviti non hai capito vai ok poi ti invito se mi dici no facciamo la base operativa in sola di inviti io vado alla mia base operativa ti invito nella missione tu entri ecco che fa così va bene devo cambiare ancora la sessione no ma non so nemmeno se funziona nel single player sì che va io l'ho fatta l'abbiamo fatta la mia nella cosa no certe missioni non vanno nel single player va bene oh lo faccio solo perché ti chiami Gianchiano che è Gianchiano? Gianscuro no lo facevo adesso metto una carta della switch sopra il microfono così mi senti vuuuuh eeeh doc ho rubato Amanda l'ho infilata nel cabinetto e io ho detto stai lì porco si può dire si può dire oh mi ha cavato la signorina bing doc andiamo a farla sai che break up vuol dire fornaio la signorina fornaio il forno di aaaah è la moglie di Xyuder ho capito Xyuder scusa è la figlia di Xyuder vediamo se adesso mi ricarica online boh oggi c'ho problemi con online anche con altre cose quale tutti i giorni si nota però se vuoi ti faccio il la madre è sempre bello che adesso è una bella cosa lo sapevo che non mi dovevo unire da te vedi io lo sapevo lo sapevo io lo sapevo io sapevo già tutto però adesso è andato adesso è andato però non sono da te lo stesso va solo a ghimishi chiusa accetta l'invito ma scusa è scam cioè se io mi metto un visore per conto mio non va se mi metto un vabbè entri un attimo che c'è da andare a rimettere il visore mi scavo muoviti o ti spacco il culo muoviti un secolo un secolo dammi no un secolo e mezzo è troppo ho detto un secolo ancora di più un secolo di un secolo e mezzo che cos'è un secolo? un secolo è uguale a un secondo però articolato entri entri con il vroom bravo entri entri su vda ciao gennaro come sto gennaro 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 li fai acquistare le le giubbotto lo sai che non ho ancora comprato potrei aver quitato l'attività per sbaglio e puoi rinvitare oh 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 ho scattato tasto e dai rinvita come fa il sebastian lo soresti dirmi che il visore termico va solo di notte e questo io io questo lo chiamo stavo non lo so entrato a veri bravo sing.na.bac fornaio fornaiti fornaio guarda che belli vediamo cosa dobbiamo fare il bello è che noi abbiamo noi adesso aiutiamo il casino ma poi molto spesso l'abbiamo rapinato ah tu porti baker io porto il fornaio la fornaia ma i daggan non erano quelli che della sicurezza che quando fai i casinò allora perché adesso sono contro il casino perché allora eeeh chang ha perso il casino è stato rubato dai taggan no ok forse ho capito ho capito adesso il perché dai mi aspetta piano piano sto capendo anche perché sto ascoltando lei potrei essermi schiantato no te lo andrai avanti la mia macchina è più veloce della tua giovanni marcello marcello ho detto che devi venire qua marcello no marcello sei scarso ma perché poi non ti chiami marcello però ma io taglio la zona universitaria ma la zona universitaria c'ha il campetto da gol chiaro di merda comunque si tanto perché non riesce a girare slitta è una slitta per me c'è babbo natale qui dentro il signor chang è babbo natale poi c'è l'altro che è l'elfo il chang natalizio cinciung chang cinciung chang cinciung 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 what the hell was that sto bestemmando in cinese però si io mi sono schiantato tre volte lei fa what the hell was that che cos'era è un crash test per vedere se la macchina resiste non è vero fai il crash test come hanno fatto i pantellas con esmeralda però fallo con la signorina baker con la fornaia il forno del 49 perché poi dico nome di casa cognoscenti si si dice non ho mai sentito perché tu non parli l'italiano corretto spengere la luce quello è corretto mio padre dice spreparare la tavola perché è spagnolo quindi spreparare la tavola no veramente esiste ma lui non so da dove è tirata fuori dalla russa perché lui è russa e si vede eh ma io lo dico guarda come son veloce te che non tagli la strada scusi signore era per una buona causa il suo investimento io ho fatto un investimento ho investito un tipo ti muovi? eh guarda dove sta passando non so sembra la toscana a sto posto tra vignetti e tutto salve salve non ho parole ma non lo sapevo pensavo che non sapeva che cioè perché poi in realtà non l'ho investito apposta ah ma la cognoscenti è l'auto io non l'ho capito io ho letto adesso ok ricordati beh beh è berlina ecco perché fa schifo però com'è ridotta la mia ma io l'ho detto speriamo di nuovo è proprio il traduttore lui si chiama file chiusa uh fa adesso il termico ma bro vedi attraverso le pareti è normale qua è tutto rotto no con il termico vedi le persone attraverso le pareti lo so puoi sparare per favore ma bene scusa però ma ce l'hai dietro ma dai salve daggani dagganatevi questa dagganatevi la famiglia aia stro ma qui mi sa sparare oggi sta morendo e poi diventa anch'io dai no c'ero quasi no il traduttore è perché lui traduce ciò che dice chang non lo so ho bisogno di rigenerare aia è di ciubottino è andato ah sono troppi si sono tanti nel senso di venire aia 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 spara 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 io sono morto sono morto sono morto sono morto coprimi dai non mi chiamare adesso che mi mette giù l'arma perché non ho messo l'auricolare quindi mi tira aia brutta me dai ma quasi mi hai fatto sparare addosso voglio via 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 ho uno sputo di vita anch'io inventario più botti pesante si anch'io ne metto una va ok eh io devo rigenerare adesso non devo coprire te per un bacone perché sono proprio arrivato al minimo della vita possibile il resto ok ok sono finiti praticamente vai pensaci te che intanto rigenere un pochino rimangono due ce lo stai usando scusa mia il pesante finita finita oh quel traduttore di mer**a muoviti dai scendi 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 prendi qui scendi scendi perché prendi questa sono obbligato a salire su quella dai ma che palle aspetta mi salvo anch'io spero 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 fermo 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 anche io davanti quello non è fermo non è fermo ma lìo ma si si ho notato gli elicopteri adesso capisco il casino che c'è le macchine no matti onde busta 6x6 con torretta non mi faceva schifo dov'è dov'è ho già ucciso ah anche chang spara perfetto si sapesse utilità no 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 ok il freno tieni il freno a mano fortuna che un'auto dell'online si non lo so no è dell'online dai danni e dell'online scusse io ma così sei nato ma tu sei matto dai no 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 scusi si si cosa va indietro non va più no no vabbè almeno ci ripara il veicolo e questo dice è de busto o de basta adesso sali su quello lì dritto di te qui qui eh no guarda no loro salgono lì vedi non salgono ah voilà spari te stavolta porti tu loro no io non posso sparare zio no guidati allora dai ti lascio lasciati senza far niente un po' mi dispiacevo si a quest'ora un'auto e lo sai che invece è un'auto dell'offline ecco perché si scassa tanto quindi stai attento oh beh se non si è rotta prima eh ma dopo si storgono i cosi e non riesci a guidare puoi fermarti un attimo fermati un attimo qua fermati che spacco gli elicotteri resta aspetta aspetta qui un secondo per favore dato uno aspetta che non sopporto grazie c'è un'altra ma e beh beh allora ditelo prima no che bella l'auto che bella l'auto albero albero no ferma ferma oh no se ci bucano le ruote siamo fottuti devo stare zitto vero forse ce l'ha beccato a voi eh ma io non riesco a mirarli aspetta bomba adesiva si eh ma loro c'hanno il 4x4 non vale eh ma guarda sta roba come piotta hai detto bene si e guarda il mio sportello com'è bello oh 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 è un e un è un che la vada via qui va capito un cassio? ti hai capito ? niente prova a dire in siciliano quest'auto di m***a dentro due coglioni e non va niente adesso prova eh si ricordo un cassio dai dimmi qualcosa in siciliano eh fammi pensare no sono una macchinetta e di qualcosa in se il siciliano di m***a se vuoi te lo dico in fiorentino quello lo so bene come si diceva? sto macinino di merda che sta qui dovrebbe essere una roba simile adesso non sono una roba sto macinino d'almenga che la famiglia le carnage che la vada via sai che ho appena detto però è bello lanciare le c4 sai che ho appena detto meglio che tu non lo sappia adesso a che ci penso c'è un'auto d'almenga vada via al cu va sai cosa vuol dire vada via al cu almeno quello perché non parlo l'alberese guarda guarda vada no poi non lo so una frase in siciliano per favore per favore anche spagnolo dai dillo in siciliano ok storo no dovrebbe essere tipo ok ci devo pensare perché non è facile è una roba che se non ti ricordi non è non è Grazie.